Ciao a tutti amici del Bolter, sono qua a studiare un po' le tecniche del mio amico Manuel che si sta preparando per il corso di pittura che tra un pochino ovviamente potrete seguire anche attraverso il suo tutorial. Sono onesto, siamo molto galvanizzati dalla Modena Play perché oltre ad avere visto veramente dei pezzi incredibili abbiamo visto anche tanti ragazzi che sono andati alla fiera proprio con stand fatti semplicemente con tanta voglia di far vedere i propri modelli i propri modelli dipinti e scambiarsi opinioni e questo ci fa sperare comunque anche per l'anno prossimo quindi se vi fa piacere noi ovviamente vi aspettiamo sempre qua per consigli o fare insieme qualche miniatura così per divertirci oltre che a giocare, se vi va ovviamente vi aspettiamo e guardate questo breve tutorial che adesso ci porterà a finire i gialli del nostro demone per poi passare ai pezzi un po' più scuri. Quindi la pagina a mano gliel'ho trovata e adesso a lui la parola. Grazie ragazzi, intanto vi ringrazio tantissimo per tutte le visualizzazioni e le visite ricevute sulla pagina dove postiamo i nostri tutorial, grazie ancora e adesso facciamo un piccolo riepilogo di dove siamo arrivati. Abbiamo ovviamente dato il colore di base, la prima lavatura per creare le ombre per permetterci poi di lavorarci successivamente e abbiamo dato anche la prima luce usando il Fresh Gits Yellow della GV. Invece questa volta useremo due colori della Fantasy Games, sono due gialli, leggermente più chiari sempre per esaltare le varie luci che andremo ad applicare sul modello. Il primo che useremo sarà il Marduk Yellow. E adesso passiamo alla fase di pittura. Primo passo, verseremo nella nostra Wet Paint un po' di colore, in questo caso il bello dei colori Vallejo e dei colori della Fantasy Games è che sono fatti in pratiche boccette, quindi non c'è bisogno di raccattarli con pennelli o altro. Una volta messo ovviamente procediamo al solito sistema per diluire il colore, perché non possiamo darlo diretto e pastoso. C'è da dire che questi colori sono già abbastanza liquidi di loro. Ok, adesso togliamo un po' di colore in eccesso e iniziamo a dipingere. Anche in questo caso continueremo dove abbiamo iniziato le volte precedenti lasciando intravedere il colore sottostante. Quindi in questo caso andremo ad aumentare le luci verso il basso sul pettorale e ad intensificarle lasciando comunque nella parte superiore invece il colore precedente, in modo da iniziare a dare una variazione. Come vedete tengo poco colore sul pennello perché è il segreto fondamentale in realtà per ottenere ogni buon risultato di pittura. Mai dare pennellate cariche di colore, grondanti, perché se no non funziona neppure quando si dipingono i muri, figuriamoci su una miniatura. E ora piano piano procediamo e raggiungiamo tutte le parti del modello. Come vedete anche in questo caso sto aggiungendo colore solamente nella parte superiore perché è quella che viene colpita maggiormente dalla luce. Non sto a colorare i buboni che vedete perché tanto riceveranno una base diversa e verranno affrontati in un successivo step di pittura. Anche se inizialmente sembra che il colore non sia tanto coprente e non ci siano variazioni, vi assicuro che dando passate leggere man mano si otterrà il risultato voluto. Visto che questa sera comunque diamo un doppio strato di colore, adesso lasciamo lavorare Manuel e magari poi riprendiamo verso gli ultimi ritocchi di questo primo strato di colore il nostro modello così da portarci avanti e non creare anche a voi un video magari 40 minuti che non è piacevole da vedere. Quindi ora lasciamo lavorare Manuel insieme. Bene, adesso abbiamo finito di dare su tutto il modello la nostra seconda luce. Come potete vedere abbiamo ricoperto ogni singola parte lasciando comunque intravedere il colore precedente in modo da creare una transizione. E adesso passeremo, agitiamolo un attimo, al secondo colore che useremo, la nostra terza luce è praticamente il Lilith Yellow. Adesso ne versiamo un pochettino. Ecco fatto. Puliamo un attimo il pennello dal colore precedente e poi diluiamo, togliamo il colore in eccesso e anche questa volta andiamo però restringiamo sempre di più l'area dove applichiamo il colore. Se a dare il primo giallo siamo partiti praticamente da qui, a dare il secondo giallo, il marducchiello, siamo partiti da qui, adesso facciamo solamente le parti più interne in modo da metterle in luce i bordi ovviamente e tutto quello che aiuterà a definire la massima luce del modello. Ora so che voi che ci seguite giustamente sembra in prima fase non cambiare assolutamente il colore però quando in realtà il pezzo è finito ovviamente le varie tonalità di giallo sono visibili anche da cellulare, nel senso che comunque non stiamo usando una macchinetta professionale ed è per quello che magari vengono anche leggermente meno visibili i colori. però ora lasciamo lavorare come prima Manuel e poi dopo analizziamo insieme tutti i passaggi e guardiamo il pezzo come è venuto. Cerco adesso di farvi vedere ad esempio, dammi un secondo, il ventre, scusate che metto a fuoco, vedete che già il bordo è molto più acceso del ventre. Quindi, ora lasciamo lavorare con calma Manuel e poi riprendiamo per il pezzo finale. Eccoci qua, abbiamo terminato di dare la nostra ultima luce, puliamo il pennello. Cerchiamo di portare il pezzo ora senza far venire il mal di stomaco nella migliore delle sue luci che possiamo darvi col cellulare, quindi perfetto, sfondo nero. Allora, cerchiamo di indicare l'ultima passata. Ce la fai a tenerlo con una mano? Ok. Quindi, con l'ultima passata abbiamo messo in luce, in pratica, i bordi estremi, diciamo, la parte più estrema della faccia, come potete notare, anche per esempio la parte alta delle spalle e tutte le zone che effettivamente potrebbero essere colpite da una luce verticale. Anche la parte alta del ginocchio, come potete vedere in entrambi i lati, e la parte bassa della zampa del demone che comunque risulta illuminata. Anche questa sorta di muscolatura che viene qui è illuminata. E nella prossima fase andremo a ridefinire meglio le ombre. Daremo delle velature di colori dal viola al blu scuro per farle risaltare meglio. E l'ultimo passaggio riguarderà invece una leggera velatura di rosso nelle parti, diciamo, di carne che incontrano le parti metalliche, a suggerire, diciamo, un innesto che ha rovinato le carni del demone. E poi andremo avanti dipingendo le stesse parti metalliche, i tubi e tutti i dettagli che verranno poi alla luce, perché qui abbiamo dei vermetti che escono dallo stomaco, tutte le carni da elaborare, la lingua, i denti, gli occhi. Abbiamo ancora un bel po' di lavoro, ma diciamo che la parte riguardante le luci della pelle del nostro demone è terminata. Quindi speriamo che anche questo tutorial vi sia d'aiuto. Se comunque volete saperne di più anche per altri colori, anche per i vostri modelli, noi come sempre vi aspettiamo in via Santa Maria 10B a Carrara e ovviamente su tutti i nostri canali che vedrete nella sigla di coda. Quindi ragazzi, anche per questa sera, grazie a tutti. Anche il nostro demone vi saluta. Ciao ragazzi. E alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.